Carissimi amici è arrivato PaninoTube e oggi torniamo nella serie di Ice Cream Oggi torniamo qua perché scopriremo insieme nuovi segreti che riguardano Joseph Sullivan Il padre adottivo di Rod Ebbene si fra poche settimane dovrebbe uscire il nuovo aggiornamento del sesto capitolo Esattamente il 4 febbraio Questo nuovo aggiornamento aggiungerà dei nuovi segreti che riguardano il padre adottivo di Rod E uno di questi riguarda anche la sua morte Come è morto Joseph Sullivan lo scopriremo nel prossimo aggiornamento Ma in questo video scopriremo altri segreti che tra l'altro sono già disponibili Ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Se il like che lascerete sarà pari il personaggio associato qui sarà Rod il gelataio Se invece il like sarà Dis per il personaggio associato qui sarà Joseph Sullivan Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali personaggi siete associati Se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale, attivate la camparellina Ma adesso direi di partire Cominciamo subito, tocchiamo subito gioca Andiamo in partita Allora per poter fare sta parte qua come sempre Dobbiamo cercare di entrare all'interno dell'ufficio di Joseph Quindi dobbiamo metterci lì a cercare tutte quante le varie parti del medaglione Nooo di nuovo tutte quante sta cosa da fare Tutte quante le cose E qui nel frattempo ci sono sempre Mike, Jackie Si mettono lì a chiacchierare che devono cercare gli altri amici E qua Jackie dice Charlie potrebbe trovarsi lì nella cucina E dobbiamo raggiungere Anzi, dobbiamo ricongiungerci con tutti quanti gli altri E il solo modo per dare a Rod Quello che si merita E infatti è vero In questa parte che stiamo vivendo della storia di Ice Cream Stiamo cercando di far ricongiungere tutti quanti i nostri amici Infatti su Ice Cream 7 dovremmo ricongiungere Liz con Jay Con tutti quanti gli altri Per poter poi alla fine attuare la parte finale del piano Quello di poter sconfiggere una volta per tutte Rod il gelataio Ma sarà una sconfitta definitiva O soltanto apparente E qua poi entreremo nella seconda stagione di Ice Cream Ma di questo ne parleremo più avanti Adesso siamo qua in partita Concentriamoci su Joseph Sullivan I want you Io voglio te Nella mia fabbrica del gelato Ma scusa non è per dire Joseph Ma tu hai licenziato tutti i tuoi dipendenti Sostituendole con i mini Rod Adesso stai cercando così dipendenti Vabbè lasciamo perdere Lasciamo perdere E mettiamoci subito qua a cercare le parti del medaglione Allora vediamo cosa ce n'è una va Vediamo di qua Voglio cercare stavolta di trovare le parti del medaglione Senza usare gli indizi Vediamo se ce la facciamo Vediamo se a sto giro Basta sti mini Rod E sti mini Rod sempre ovunque stanno Sempre ovunque Allora vediamo qua dentro va Apre qua Vuoto Vediamo dentro sti cassetti Vuoto Vuoto E te pareva E te pareva Vediamo di qua da questo lato Mini Rod Sei di qua Ok se ne è andato via il mini Rod Se ne è andato via Qui c'è qualche parte di medaglione No Qui dentro nel bagno Io comunque non l'ho mai trovato Oh Stavo giusto dicendo Non l'ho mai trovato la parte del medaglione nel bagno E' la prima volta che mi è successo E' la prima volta Ma è bella sta cosa Fantastico Metti qua dentro E adesso mettiamoci qua a cercare l'altra parte No 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 Metti 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 Continuo a succhiare il gelato Mi raccomando Continuo a succhiare Io nel frattempo Già che ci sono Mi tolgo sta parte di mezzo Così vediamo se si trova qui la parte del medaglione Medaglione dove sei dove sei Speriamo qui dentro No Mini Rod Lasciami stare Mini Rod Lasciami stare Ma sempre in mezzo stanno sti Mini Rod Sempre in mezzo qui Medaglione Dove ti hanno messo Dove sta sto medaglione Eh se non è qua dentro vuol dire che sarà in mezzo alla cucina Ma sicuro Tanto adesso Rod verrà da queste parti Infatti Vabbè Rod Prendi qua la torta Bam Sì No 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 Eh vabbè però eh E basta Due Mini Rod in contemporanea Mi son beccato Ma guardateli questi Mini Rodini Ma sempre in mezzo state Mini Rod Sempre in mezzo Adesso cerchiamo sto medaglione Vabbè che è sparso per tutta sta cucina enorme Cioè Ma qui come pretendono Aiuto pure Metti E pure Metti si ci mette Come pretendono che io possa mettermi qui a cercare tutto quanto Vabbè Mini Rod Ma perché Ma il bello è che io adesso sapete cosa faccio Io col Mini Rod mi allontano Eppure riesce a prendermi Mentre negli altri capitoli di Ice Cream Era più facile non farsi prendere Questa volta Uh Trovato quel Mini Rod L'abbiamo trovato E quindi ce ne andiamo via No 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 Metti Lasciami stare Lasciami stare Veloce 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 Andiamo di qua Andiamo di qua E vabbè Perché Ma perché Ma ovunque me li trovo Sti Mini Rod Ma ci sarà un giorno che io riuscirò a camminare qua No scusa Chi ti ha detto di nasconderti Dicevo Ci sarà il giorno in cui io riuscirò a camminare Senza farmi vedere da un Mini Rod Ce la farà mai il buon panino Ma mi sa di no di questo passo Mi sa di no Allora Andiamo di qua Vediamo qua se c'è qualcosa di utile Metti qua dentro Perfetto Mini Rod Ok se ne andato via Apri la porta Ok Abbiamo sbloccato finalmente L'ufficio di Joseph Sullivan Di Giuseppino Sallivano Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Il nostro caro Giuseppino Il patriottivo di Rod Si Giuseppino è praticamente all'italiano Giuseppe in italiano significa Giuseppe Ma come ben sapete Io qua tendo a dare i nomigni Nei personaggi Quindi Rod Lo chiamo Roddino Allora Siamo qua dentro Oggi voglio dedicarmi principalmente Agli oggetti segreti di Joseph Sullivan Innanzitutto Segreto numero uno La pagina del giornale Che si trova qua dentro Che pagina è questa? Che cosa racconta questo foglietto qua? Sicuramente qualcosa che riguarda Joseph Sullivan Ma molto probabilmente Perché Rodd Lui non è mai finito sul giornale Cioè È un gelataio cattivo Per quale motivo avrebbero dovuto fare una notizia Ad appendere per zero così? Probabilmente quella notizia sarà O su qualche premio Che magari ha vinto Joseph Magari aver fatto qualche gelato Così bello Così importante Da essersi meritato la copertina sul giornale Oppure Potrebbe essere anche Sapete che cosa? La notizia del suo Grande gelato Del suo Guinness dei primati Il che comunque sarebbe più che Normale Ciao Mini Rodd Non sono di qua Non sono di qua No Ma cosa? Sono nascosto da un Mini Rodd Non mi ha visto Non mi ha visto il Mini Rodd Ma che bella sta cosa Chiudi la porta Perfetto Perfetto E quando mi ricapiterà mai Una scena del genere Quando mi ricapiterà mai Una roba del genere Vabbè Mentre sono nascosto qui In questo ongolino Che a quanto pare Posso stare qui Tranquillamente Senza che il Mini Rodd Mi dica qualcosa Joseph Sullivan Lui ha fatto il gelato Più grande del mondo E magari questa cosa qua Può essere finita All'interno di una pagina del giornale Ci sarebbe anche da chiedersi Per una cosa Come me quella pagina È stata strappata Cosa contiene Cosa c'è scritto Di tanto importante Che Rodd Ha dovuto strapparla E metterla chissà dove Chissà dove finita quella pagina Sicuramente nel prossimo aggiornamento Di iScreen 6 La potremmo vedere La incontreremo Oppure la vedremo su iScreen 7 Ma c'è anche un altro elemento Molto molto importante Questa maschera Guardate qua Guardate la maschera Sembra tipo una versione Un po' rettangolare Della maschera di Joseph Sullivan Forse questa qui Era la prima maschera di Joseph Oppure di qualche suo antenato A quanto pare infatti Joseph Aspettate Sento un rumore Di un mini Rodd Qui nei paraggi Nel dubbio Mi rimetto di qua A quanto pare Anche gli antenati di Joseph Potevano essere Dei gelatai E quella potrebbe essere La maschera Del nonno di Rodd O di qualche padre Di qualche antenato Di Joseph Sullivan Sappiamo anche due cose Per quanto riguarda Il nostro caro Giuseppino Sullivan Giuseppino Sullivan Infatti era di origine Americana E germanica Quindi può darsi Che forse Una sua parte germanica Vendeva gelati Da qualche parte Oppure una sua parte americana Chi lo sa Lo scopriremo Andando avanti Con tutto quanto C'è comunque una teoria Che sta girando ultimamente In cui si parla Che Joseph Sullivan Ha contribuito con la morte Di Elisa Ora questa teoria Probabilmente è sbagliato Perché Joseph Sullivan Lui viveva qui in America Già durante i periodi Di quando Elisa Ha perso la vita Durante quel bombardamento Nel 1938 Cioè Joseph Sullivan Stava già qui in America Anche perché Si è di origine americana Vuol dire che lui Molto probabilmente Stava già lì Non poteva partecipare In quel conflitto Che ha portato Alla morte di Elisa E no Lì non poteva Avendo anche la sua parte La sua natura americana Non poteva farlo Quindi quella teoria Che sta girando È totalmente sbagliata Ve lo dico già È totalmente sbagliata Però è stata comunque Una cosa curiosa È stata una curiosità Che hanno voluto approfondire Alcuni youtuber Ma non dico nient'altro E quindi adesso però Ci manca da fare una cosa E adesso riusciamo a raggiungere Il gelato speciale Di Joseph Sullivan Vediamo se ce la facciamo Ok apri qua la porta C'è qualcuno Qualche mini rod Qui nei paraggi No Meno male Meno male Via 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 Me ne scappo via Lungo questa porta Sperando che meti Eccola lì Meti di spalle Entriamo qua dentro Vediamo se riusciva A raggiungere In qualche modo Il gelato Anche se secondo me Sarà un po' difficile Proviamoci Vediamo cosa riusciamo A combinare Allora Raccogli qua Il fucile elettrico Usciamo fuori Da questa porticina E ce ne andiamo dritti Verso il museo Di corsa Di corsa Di corsa Scendi qua Scendi qua Veloce 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 Apri quel condotto Ce ne andiamo sotto Lungo questo tunnel Il tunnel Viola E facciamo attenzione Al mini rod Ok Apri qua la porta Qui c'è qualche mini rod No Meno male Meno male Meno male E quindi cammino libero Per questo museo Sì Che bello Che bello Andiamo 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 Veloce Veloce Eccolo là Eccolo là Io direi di metterlo fuori uso Nel dubbio Qualche altro mini rod Qui Qui in zona C'è qualche mini rod No Meno male Meno male Vediamo se riusciamo A raggiungerlo Con le trappole Vediamo Secondo me No Però Ma cosa Le trappole che andavano lì Oh trappole Fatemi salire Ma non ci credo Non ci credo È stato fixato il bug Che da qua mi fa andare Verso la stanza Del gelato di Joseph E niente Mi sa che non si ci può arrivare A quanto pare Mi sa che non potremmo arrivarci Peccato Peccato Sarebbe stato veramente curioso Aspettate forse Forse No Sono salito forse Un po' troppo oltre Mi sa che sono salito Un po' troppo oltre Vabbè lo vediamo da qua Allora il gelato speciale Di Joseph Vediamolo qua Lì si trova il gelato speciale Il gelato più grande Del mondo Costruito dal padre Adottivo di Rod Purtroppo però A seguito di questo gelato Lui ha perso la vita Proprio Qualche giorno dopo Qualche settimana Non so adesso Quanto è passato Però appena L'ho fatto sto giornale Sì sto giornale Va bene sto gelato Joseph Sullivan è stato coinvolto In un incidente In cui è stato investito E ha perso la vita E finalmente Tra qualche giorno Scopriremo Che cosa è successo realmente Noi sappiamo soltanto una cosa Lui ha fatto Una cattiva scelta Questa cattiva scelta L'ha portata Alla morte Quella nel 1955 E quindi che dire Per il momento Io direi di finire Qual video Fatemi sapere cosa ne pensate Mi raccomando Rimanete sintonizzati Perché qua su questo canale Molto presto Ci saranno altre notizie Per quanto riguarda La storia di Ice Cream Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Che se vi date Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti Buon panino a tutti Buona giornata 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 Buona giornata